Il poliambulatorio, la regione oggi presente per questo taglio del nastro che dà un servizio in più a chi già occupa queste case. Devo dire che qui il medico è stato straordinario fin dai primi giorni, con una visione della cure primarie di grande qualità, una garanzia per questa comunità. Il ritorno del poliambulatorio provvisorio ma con una bellezza e una qualità di una struttura definitiva, fa ripartire pieni servizi che possono essere messi alla disposizione della comunità anche in relazione al distretto, quindi con attività non solo del medico e medicina generale ma anche, chiamiamoli, servizi di tipo specialistico. Con l'arrivo poi di quella definitiva si avrà la possibilità di avere spazi nuovi a disposizione e poter utilizzare questa bellissima struttura che è provvisoria nella funzione ma secondo me definitiva per la qualità dell'intervento.